ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco di pasta codex vs rl ultimo aggiornamento 12 maggio 2020 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche componenti e ingredienti a cosa serve di pasta è un parafarmaco appartenente alla categoria degli articoli sanitari vari per prevenzione piaghe da decubito è commercializzato in italia dall'azienda codex vs rl informazioni commerciali titolare codex vs rl concessionario codex vs rl categoria di appartenenza articoli sanitari vari per prevenzione piaghe da decubito confezioni di pasta pasta lenitiva 100 ml indicazioni è una morbida crema potente lenitivo in ogni situazione infiammatoria anche resistente potente cicatrizzante drenante decongestionante degli arti inferiori riduce gonfiore dolorabilità varicosità teleangectasie trofico cutaneo operazione sul circolo è indicata in tutte le situazioni infiammatorie nelle dermatiti da pannolino nelle dermatiti atopiche e resistenti nelle intertrigini e nella prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito molto efficace in tutte le manifestazioni da insufficienza venosa modalità d'uso in tutte le indicazioni il prodotto va applicato due volte al di nella zona da trattare destesamente attorno con lieve massaggio per favorirne l'assorbimento nel trattamento degli arti inferiori il prodotto va applicato su tutta la gamba dal ginocchio alla caviglia e non solo sull'area interessata dal disturbo per cicli di almeno 20 giorni più volte all'anno descrizione e caratteristiche è una morbida crema potente lenitivo in ogni situazione infiammatoria anche resistente potente cicatrizzante drenante decongestionante degli arti inferiori riduce gonfiore dolorabilità varicosità teleangectasie trofico cutaneo operazione sul circolo componenti e ingredienti miscela di frazioni di saponificabili brevetti internazionali ossido di zinco al 10 per cento fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato